Dimenticare l'eliminazione Il 2 maggio 99 Quadrado pronto al traversone Uno contro uno Dentro Vlaovic zona tiro Di bala slalom di bala Palorete Juventus in vantaggio La sbloccano i bianconeri Al quinto minuto di gioco Paolo di bala torna e segna Juventus in vantaggio Danilo pronto a verticalizzare per Quadrado Che aspetta il pallone Occhio a Di Bala che si infila dall'altra parte Posizione regolare Di Bala Di Bala ancora Di Bala Pallonetto e pallone alto Sopra la traversa Ha divorato il gol del 2 a 0 Paolo Di Bala Pellegrini recupera palla Con Vlaovic che si becca una strigliata Da parte di Allegri C'è Di Bala dall'altra parte Di Bala entra in aria Si ferma Di Bala c'è Vlaovic Posizione regolare Vlaovic La Juve fallisce ancora Pellegrini prova a passare Ci riesce dentro Per Di Bala C'è Vlaovic Ancora Di Bala Si gira Di Bala Miracolo Da parte di Sepe Poi Vlaovic Succede un po' di tutto All'interno dei 16 metri Della Salernitana Che si salva ancora De Sciglio Va sul fondo Parte la cross Per Vlaovic Eccolo il raddoppio Della Juve Dusan Vlaovic Al 29esimo Fa 2 a 0 Rimettono la freccia I bianconeri Che trovano il gol Della raddoppio Coulibaly Avanti per Bonazzoli Che prova al tiro E spaventa Scesni Subito il tocco per Verdi Che può provare ad andare al tiro Cerca il Triglb Poi parte la conclusione Vola Scesni Qui pallone dentro Per Vlaovic Che ci arriva Vlaovic Il diagonale Sepe con i piedi Salva tutto Verdi Palla dentro Diuric Riesce a fare da sponda Per Bonazzoli Ancora Scesni A salvare i bianconeri Fischia Tre volte Eroldi Finisce 2 a 0 Tra Juventus E Salernitana Bianconeri A meno uno Dall'Inter Prossima avversaria Dopo la sosta A meno uno A meno uno Analitana